Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera con 222 voti, superando quindi il quorum di 201 necessario all'elezione. La mattinata a Montecitorio è stata segnata da una protesta da parte di alcuni esponenti del PD come l'onorevole Alessandro Zan, che hanno esposto uno striscione in cui si diceva no ad un presidente omofobo e pro-Putin. I commessi dalla Camera sono intervenuti per sequestrare lo striscione e la seduta è ripresa.